L'informazione è la chiave di tutto, credo che il vero tema che io credo sia importante è il giusto equilibrio tra la quantità e la qualità di informazione, perché non sempre l'eccesso di informazione aiuta a prendere le migliori decisioni, quindi quello è dove entra ovviamente un giudizio soggettivo e forse c'è un aspetto sulla quale vale la pena soffermarsi un po' di più rispetto a solo gli obblighi di compliance, di tick the box, perché poi alla fine è veramente la qualità dell'informazione che deve essere abbastanza completa ma allo stesso tempo non tale da affogarti che non ti permette di prendere poi le decisioni giuste.